LGNet2 a Roma si conclude in questa fase, è un progetto importante per noi, abbiamo attivato unità di strada, sociosanitarie, progetti nelle scuole di periferia per fare inclusione e ci aspettiamo, per noi è un modello importante da riproporre, da continuare, dare concretezza ai progetti e anche dare respiro nella prossima annualità per LGNet3 per poter raccontare ancora meglio con i progetti che metteremo in campo Roma come una città che include, Roma come una città che racconta, che viene curata nella sua interezza e bellezza della nostra città attraverso anche le persone che accogliamo.